ma nel personaggio lo immagino così ecco la mia ipotesi di personaggio cercando come dice drammaturgicamente di stare dentro il personaggio di vedere quello che lui può vedere ho capito sentire ecco mi metto lì dentro e non lo vedo così netto così mitico questa è la mia personale ok direi di ascoltarci ancora un bel momento di vedere mi rimassiamo se voglia buonasera 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 buonasera